Vengo da una famiglia straordinaria, molto un'età, siamo cinque fratelli. Mamma lavorava, mio padre era poliziotto, sono cresciuto con una nonna che mi ha fatto anche un pochino da mamma. Io ero un pochino questa mosca bianca, soprattutto nella periferia. Agli inviti provocatori della borgata rispondevo con la gentilezza. C'è un uomo e tu lo sai. Genato Zero è nato a 13 anni, in locali, non certo locali autolocati. E mi trucco perché la vita mia, non mi riconosca e vada via. Lau ha preso l'arte del microfono e della scena. Allora ho deciso di avere un'esistenza artistica, delle esperienze soprattutto, che mi consentissero di diventare il Renato Zero. Io sono veramente uno che canta quello che ha visto. Prendo dalla strada le esperienze e un modo di vivere che mi dà la possibilità di trasmetterlo in un secondo momento a un pubblico. Allora ho deciso di avere un'esistenza artistica, delle esperienze, delle esperienze, delle esperienze, delle esperienze, delle esperienze. Grazie. Grazie.